oh eccoci che bello eccoci lo so non era non era neanche messo nel senso che non ho avvisato nessuno mi rendo conto che effettivamente possa così un attimino essere così un po' una botta per chi comunque si vede la mia live di botto senza nemmeno aver avvisato comunque una buona serata anzi dovrei dire forse una buona notte a tutti comunque un saluto particolare a tutti voi che in questo momento siete siete svegli a tutti voi che in questo istante siete collegati con me state ascoltando questa diretta insomma un caldo saluto a tutti voi sono le 23 51 minuti volevo passare un po di tempo insieme insomma tra una cosa e un'altra mi faceva piacere lo so non ho avvisato ripeto a dire sono pienamente consapevole di questo del non aver avvisato quindi comunque mi rendo conto che un attimino la cosa stona stona un attimo però mi piaceva comunque l'idea di stare di stare un po insieme nulla semplicemente e anche se vogliamo la così la il mezzo giusto per salutarci per stare un attimino insieme un pochino anche per raccontare raccontarci come prosegue questa questa serata dai toni molto particolari tra le altre cose almeno qui a palermo inizia esserci un bel po di freddino ma al netto del del freddino che c'è c'è anche il fatto che comunque così c'è molto molta aria invernale considerate che tra paio di ore già a partire dalla proprio dalla giornata di di domani si prevede addirittura insomma di tutto e di più brutto tempo mamma mia cose terribili si prevede la qualsiasi cosa però dai tutto sommato alla fine credo anche possa in qualche maniera avere un senso perché comunque dai consideriamo il il fatto che ci sia così un attimino di di autunno di così di aria autunnale che può 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 anche starci insomma ci può ci può anche stare bene e quindi siamo qui insomma siamo siamo insieme la cosa mi mi fa molto piacere volevo veramente salutarvi volevo anche così semplicemente essere un po un po presente in maniera molto 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 a sorpresa mi rendo conto ribadisco che quando ti arriva una 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 live così in diretta sorpresa boom e nemmeno abisi chiaramente diceva che diamine sta facendo questo però sono consapevole sono assolutamente consapevole però mi mi faceva davvero piacere quindi era giusto era bello insomma volervi anche se vogliamo fare un attimino una sorpresa ecco volevo volevo principalmente questo fare una sorpresa e mi piaceva mi piaceva mi piaceva l'idea mi piaceva anche la così il gusto proprio vero e proprio della della sorpresa il gusto vero e proprio del così dello stare insieme in in questa serata molto particolare tra l'altro anche parlo in maniera personale molto particolare anche soprattutto per me che insomma come avete capito ne ho passate un po ne ho passate un po però dai tutto sommato alla fine è andata relativamente bene poteva poteva anche così potevamo avere sorprese sorprese ulteriori sorprese maggiori però tutto sommato alla fine siamo qua siamo qua a parlarne la cosa mi rincuora non poco mi rincuora non poco per quanto concerne insomma un po un po tutto il resto io così volevo cogliere anche la così la l'occasione della della diretta della live che non durerà moltissimo anche perché mi rendo conto insomma che l'orario è un po quello che è però mi faceva piacere comunque ringraziarvi ringraziarvi perché davvero siete sempre tanti e davvero è bello è bello fa piacere vedere quante persone quante quante quanti utenti quanti di voi apprezzino ecco voglio dire così apprezzino il così ciò che pubblico ciò che vi racconto ciò che scrivo e in qualche maniera questa cosa rincuora me senza ombra di dubbio ma forse mi fa piacere pensare che possa rendere felice qualcuno dargli un attimino di di serenità di tranquillità forse anche un modo per ritrovarsi ecco in qualche maniera nel così nel nelle parole nel nelle frasi quindi in qualche maniera credo che la cosa più importante sia questa al netto di quello che viene condiviso al netto di quello che viene veicolato io sono sempre stato dell'idea dell'avviso che l'importante è ritrovarsi che l'importante è vivere determinate emozioni sensazioni e se queste emozioni sensazioni sono condivise di quella fine tutto sommato perché no un po considerate anche questa live e consideratela come un test perché vi avevo vi avevo promesso che ci saremmo sentiti in in un momento più consono soprattutto perché vi ho chiesto quando preferite che la live vada in onda e voi stessi mi avete raccontato insomma mangiato il sondaggio intorno alle 20 non neanche mi ricordo ora poi andrò a vedere considerate un test però considerate anche la così la voglia la l'idea ecco mettiamola così di volervi fare una sorpresa un po anche pensando a quello che potrebbe essere a quello che potrebbe diventare pensate che bello potremmo stare insieme eccola una buona serata ciao 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 un saluto anche a te vedete la nostra it's lee spampazzo che è una tra gli utenti in assoluto più attive sul sul mio profilo e questa cosa mi fa davvero molto molto piacere tra le altre cose voi non sapete una cosa io non è che sto facendo una live dice prende il cellulare faccio una live no no in realtà io in questo momento sono proprio in radio voi non lo sapete ma ciò che state sentendo è in in onda proprio attraverso attraverso ciò che mando che utilizzo normalmente per per l'fm ecco perché probabilmente questa live ha comunque anche una qualità maggiore che farla con con il cellulare però che bello vedete senza avvisare vedi it's lee spampazzo parlo anche con te che sei in live senza avvisare così di botto prendo e vi così vi ho voluto fare una sorpresa ripeto prendetela un po anche come un test prendetela anche come perché capisco che l'orario è quello che è prendetela un po anche come l'idea di ciò che potrebbe potenzialmente diventare grazie mi dice infatti a un audio magnifico bene molto gentile diciamo quello che potrebbe paradossalmente diventare però guardate che è bello guardate come possiamo ritrovarci possiamo io stesso per me diventa un vettore molto più importante anche per raggiungere molte più persone di voi che mi possono scrivere mi possono raccontare e in qualche maniera chissà forse posso venire d'aiuto a qualcuno ne parlavo proprio qualche ora fa con la nostra amica it's lee spampazzo dicevamo proprio questo che molti di voi le stessa mi raccontava si ritrovano nelle cose che scrivo nelle cose che raccontano nelle cose che veicolo in qualche maniera e vedete la realtà poi fondamentalmente una la realtà è il fatto che viviamo emozioni e sensazioni che sono più o meno quelle sono quelle stesse sensazioni e quelle stesse emozioni che proviamo nella vita di tutti i giorni quegli stessi dolori che probabilmente condividiamo di fronte a amori che sono fuori dalla nostra portata sentimenti che vanno a distruggersi contro persone che in qualche maniera non hanno la nostra stessa sensibilità e vedete poi quando le persone hanno un cuore grande quando le persone hanno davvero così un una grande voglia di amare una grande voglia di di donare il proprio amore i propri sentimenti non necessariamente tra un uomo e una donna tra una donna e una donna tra un uomo e un uomo tra un uomo e un gatto tra un uomo e un monitor non lo so dico monitor perché ce l'ho qua davanti ovviamente sto sdrammatizzando però introduco comunque un argomento molto importante cioè che l'amore è fonte universale noi iniziamo a rompere le balle con i discorsi non diciamo cazzate l'amore è universale l'amore è amore punto si possono amare un uomo una donna una donna un uomo una donna una donna una donna un uomo non cambia nulla nella maniera più assoluta possibile quindi niente discorsi niente stupidate di sorta l'amore si chiama amore ve l'ho detto perché se è amore amore punto mica è amore così solamente se c'è un genere diverso dall'altro ma chi se ne frega dico alla fine quello che conta è il cuore quello che conta sono i sentimenti poi ragazzi parliamoci chiaro sono discorsi che nel 2022 a momenti quasi 2023 non dovremmo neanche stare a fare subito cerchiamo di smetterla non dovremmo neanche stare a fare questi discorsi così veramente assurdi ed insensati semplicemente chi ama ama punto non non c'è un così una motivazione non devi stare là a spiegare l'amore guardate che è universale non non è che se ami ami in una maniera piuttosto che in un'altra cioè no se ami ami fine puoi amare il tuo lavoro come puoi amare le persone come puoi amare chiunque o qualunque cosa ti piaccia però ovviamente è chiaro il fatto che nel momento in cui comunque ami metti in gioco tanto di te stesso di te stessa rischi anche di farti del male perché ragazzi non voglio eh esatto brava purtroppo siamo costretti a fare ancora discorsi del genere perché ancora esiste gente che non capisce e questa cosa cara sorella amica mia non è accettabile nel 2022 quasi 2023 non è accettabile e poi ragazzi sentite tanto l'ora è molto tarda posso parlare molto apertamente come se facessi la diretta alle 10 del mattino e non parlo apertamente sono rinomato perché parlo fin troppo apertamente e certe volte anche troppo dovrei imparare in qualche maniera essere forse più politicamente corretto ma poi non sarei io sentite parliamoci molto chiaramente l'amore diceva quello là l'amore non ha religione lasciamo stare non non è questo l'amore se parliamo di sentimento è universale non non ci sono canoni che dicano cosa è o non è l'amore cosa è valido non valido quando si parla di amore poi se parliamo di un argomento più hot più piccante che può essere la sensualità scusatemi vedete già stavo per strozzarmi che la sensualità che la sensualità di mia sorella la sessualità scusatemi l'ora è tarda anche per me e oggi guardate che ho passato una giornata davvero esplosiva se parliamo di sessualità ognuno credo che sotto le coperte faccia il diamine che gli pare puoi andare con una donna con un uomo con chi cavolo ti pare a te con una tartaruna o no lo so puoi andare da solo da sola puoi fare quello che diamine vuoi non mi pare che ciò che succeda sotto le coperte sia un vettore per giudicare la gente e per giudicare in generale le persone voi mi conoscete se non mi riconoscete imparerete a farlo perché voglio molto più spesso andare in live qui insieme a voi anzi condividete quanto più potete questa diretta condividete fatela arrivare dovunque proprio fate esplodere quanti più siamo meglio è e anzi a maggior ragione in voi stessi intervenite dite tutto quello che vi passa per la testa ne parliamo apertamente io sono una persona mi ritengo una persona nonostante i miei 35 anni molto aperta di mente ma semplicemente perché sono stato da sempre abituato a così ad esserlo sono una persona veramente per come sono fatto io attenzione lungi da me giudicare ci mancherebbe altro perché come sono fatto io semplicemente sono una persona che va oltre questo tipo di dinamiche tu sei libero di amare chi vuoi sei libero di andare a letto con chi ti pare piace io credo che in una persona ciò che conti non sia questo ciò che conti probabilmente è il cuore che ha quella persona il cuore che ci mette sicuramente il rispetto l'educazione che ha nei tuoi confronti ragazzi io non voglio fare un uso troppo personalistico del del mezzo perché comunque non lo faccio quando sono in tv non lo faccio quando presento sul web non lo faccio quando sono insomma su giornali sulla carta stampata non lo farò nemmeno qua anche perché se lo faccio in tv mi censurano dopo tempo niente però vi parlo anche se se vi parlo parlo anche soprattutto chiaramente per esperienza personale non c'è neanche bisogno che io ve lo stia qui a dire è chiaro che anche io ho provato anche recentemente sofferenze molto importanti guardate che non è bello per niente quando tu hai un cuore grande e te lo frantumano sotto i piedi ecco vedete è questo quello che conta il cuore i sentimenti l'amore che ci metti il rispetto quanto è importante l'altro per te cioè detto diciamo in soldoni no molto easy come sono io che dico sempre le cose in faccia pane pane vino vino cioè che cacchio me ne frega a me di quello che fai tu sotto le coperte quello che fai tu a letto questo non non va a cambiare quello che tu sei perché se sei stronzo o sei stronza lo sei comunque o che tu sia eterosessuale bisessuale trisessuale quintisessuale amorfo non lo so quindi dico perché dobbiamo sempre andare poi a a sviluppare il discorso utilizzandolo come vettore per giudicare le persone ma perché ma che me ne frega a me cioè se tu sei uno studente o una studentessa la cosa che mi frega è che tu prosegua il tuo percorso di studi e sia valido poi che cacchio me ne frega a me se ti piacciono le donne se ti piacciono gli uomini l'importante è amare ok l'importante è amare possiamo stare qua a fare tutti i discorsi che vogliamo possiamo stare qua a dire tutte le bazzecole che ci pare ci piace l'importante è amare e amare sottintende chiaramente che l'importante è avere rispetto mi sembra normale mi sembra logico se tu ami ovviamente se tu ami davvero e allora lì c'è una questione di rispetto c'è una questione di educazione c'è una questione che ti impone di avere verso l'altro una sorta di ora sarò un termine che sicuramente poi creerà scalpore ma molto tra virgolette di irreverenza quasi no di rispetto tale per cui comunque quella persona per te conta molto quella persona per te vale vale davvero molto quindi tutto sommato la cosa che conta davvero cari ragazzi cari ragazze è uno solo ed è l'amore è l'amore ecco vedi mandano pure dalla regia mandano pure gli applausi è l'amore quello che conta è questo non conta altro conta di base che l'altra persona sia per te molto importante che sia per te quella che ti fa cambiare la vita quella che ti rende la vita migliore è una persona che ti rende la vita migliore tu non puoi buttarla nel cesso non puoi cestinarla non lo puoi fare assolutamente no c'è chi è quel masochista che andrebbe a buttare nel cesso una persona che ti fa stare bene ditemelo nessuno cioè non dovresti essere davvero demente se fai una cosa del genere o almeno che tu non sia masochista sei masochista mi piace farmi del male purtroppo care amiche cari amici del mio cuore affezionati il problema è che non sempre che abbiamo davanti a tanta sensibilità da da comprendere che insomma perde persone che valgono davvero la pena persone che valgono davvero la pena di vivere e di avere accanto ripeto parlo anche principalmente soprattutto per credo anche esperienza personale nel senso che buonasera intanto sto vedendo che il numero degli ascoltatori sta aumentando mi raccomando condividete più siamo e meglio è più ci divertiamo ve l'ho sempre detto più siamo e più abbiamo da divertirci e soprattutto da confrontarci perché poi vedete alla fine bar giomba che è la mia trasmissione che ormai da 21 anni solca l'etere nazionale e del web poi è quello nel senso che è un luogo dove mi piace confrontarci dove mi piace pensare che possiamo in qualche modo davvero essere quasi al tavolo di un bar virtuale se vogliamo che poi virtuale neanche tanto perché poi alla fine scopri che la gente è vera guardate che dietro un computer comunque ci sono persone vere e ci sono cuori ci sono persone che soffrono anche voi che probabilmente mi state ascoltando in questo momento nella vostra mente chissà che cosa sta passando quali dolori quali quali pensieri quali così quali speranze quali tristezze ed è normale ed è assolutamente normale cari amiche e cari amici è assolutamente normale perché perché siamo vivi e l'essenza del vivere è questo l'essenza del vivere è quella di provare delle sensazioni di provare comunque così delle in qualche maniera delle emozioni poi per carità ci sono emozioni che come si dice dalle mie parti qua a Palermo e qua a Itzli Spampazzo mi capirà molto bene essendo lei delle mie zone ti fracchiano quindi ti fraccano ti prendono proprio una bastonata sul capocollo che è diciamo basta la metà nel senso che a un certo punto tu dici potevo anche farne a meno cioè ne avrei volentieri fatto a meno lo capisco però dai fa parte comunque del fa parte del gioco fa parte comunque del di quella che è proprio l'esperienza l'esperienza di vita l'esperienza del vivere ecco proprio non mi viene altro termine fa parte del gioco giustamente ne avremmo ben volentieri fatto a meno attenzione ne avremmo molto ben volentieri fatto a meno però dai alla fine poi sono esperienze che vivi sono sensazioni che vivi intanto che bello sto vedendo che il numero aumenta aumenta vertiginosamente qua io vedo insomma che state partecipando in tanti bello bello mi piace mi piace davvero grazie grazie perché è bello mi piace stare insieme a voi perché mi date quel quel bel così quella bella voglia di di raccontare quella bella voglia di di esserci no quella bella voglia di dire ma sì guarda voglio un attimino vedere che cosa ne pensano voglio un attimino sentire anche il loro parere e proprio per questo vi ripeto sempre scrivetemi in privato tutto quello che vi passa per la testa vedete io spesso pubblico ingl tutto quello che volete raccontare aprite assolutamente i vostri cuori io nei limiti del possibile ben inteso nei limiti del possibile io rispondo a tutti certo è chiaro che alle volte io apro i messaggi privati mi ritroppo 18 20 22 24 conversazioni quindi davvero scusatemi nei limiti del possibile veramente rispondo a tutti ma perché lo faccio e qui mi ricollego a una cosa che mi ha detto proprio qualche giorno fa una lettrice che saluto che è lucrezia che è veramente una è una bella e brava ragazza mi diceva guarda mi ha sorpreso il fatto che ti ho scritto e mi hai risposto beh sì se lo ritengo normale tu mi scrivi io ti rispondo vedete io diciamo non ho propriamente la mira di diventare mega influencer volendo già lo sono voi lo sapete gestisco il blog più antico d'italia 11 milioni di utenti attivo ogni giorno ininterrottamente dal 4 maggio del 2004 quindi figuratevi se le mie mire possono essere quelle di diventare certo per carità se instagram o twitter si degnano di darmi la spunta blu dopo 15 anni che sono su twitter non è che proprio la cosa mi dispiacerebbe attenzione però dico a letto di questo io credo che una persona che ha un profilo instagram pubblico semplicemente deve avercelo per avere un contatto un contatto umano perché altrimenti ti apri un profilo per fare spam per public up cioè perché perché se non per avere un contatto con delle persone che magari si ritrovano a provare le tue stesse emozioni e quanti di voi mi hanno scritto in privato dicendo sai daniele effettivamente pure io mi provo le tue stesse cose scrivi bene sembra che mi leggi dentro no io non è che sono frate indovino assolutamente semplicemente sono emozioni che viviamo nella nostra esperienza di vita molto semplicemente e siccome mi state bombardando ho capito mi state bombardando di messaggi privati va bene d'accordo d'accordo e allora apriamo anche un'altra interessante pagina ve lo sapete che ogni giorno io pubblico il le mie così dopo paolo fox c'è paolo jomb e diciamo le l'oroscopo del giorno quindi diamo gli diamo un'occhiata insieme lo commentiamo insieme iniziando domani oggi 4 novembre peraltro giornata molto importante perché si ricordano le forze armate italiane non voglio dire delle boiate ma mi pare che il 4 novembre sia proprio la giornata in cui si ricordano le forze armate nazionali ci sono le caserme aperte almeno prima del covid c'erano le caserme aperte che si potevano visitare veramente un'esperienza molto molto interessante iniziamo dal segno dell'ariete presto sarà tempo di rivincite quindi cari amici dell'ariete preparatevi perché ne vedrete di cotte di crude alla braccia in padella e sulla frigitrice ad aria diciamo arriverà molto presto anche il vostro momento e ci sarà decisamente da ridere toro non forzare gli eventi dai tempo essi cari amici del toro date tempo al tempo rilassatevi calmi tranquilli non state la a insomma a prendere così le situazioni per le corna anzi devo dire il toro per le corna effettivamente sì infatti esatto la regia giustamente sottolinea la minchiata che ho appena detto e ne ha assolutamente ben donde gemelli a volte è meglio tacere ne vale la pena essi cari amici dei gemelli spesse volte c'è un bel proverbio che si dice dalle mie parti la miglior parola è quella che non si dice fidatevi il più delle volte è meglio così non per essere politicamente corretti a tutti i costi ma semplicemente perché vi evitate tante stupidate insomma e stiamo arrivando con lo scorpione it's li spampazzo stiamo arrivando anche da te cancro le tue lacrime sono la dimostrazione della meravigliosa persona che sei io segno del cancro insomma non posso che assolutamente essere d'accordo con con questa previsione spesso le nostre lacrime sono davvero il vettore di belle persone che non vengono apprezzate non vengono riconosciute per come realmente meriterebbero leone avresti voglia di urlare lo so mantieni la calma cari amici del leone lo so lo so lo so è un periodo non facile vabbè ma mica solo per voi è un periodo è un po di cacca è un generale un po per tutti nel senso che la situazione politica nazionale non è che proprio ci aiuti tantissimo ora non voglio stare entra per carità di dio vi prego a mezzanotte e 19 minuti anche no vi prego però diciamo che in questo momento tra la crisi nazionale la crisi energetica le tasse rompimenti di balle vari la situazione non è semplice voi cari amici della riete effettivamente lo sentite in maniera maggiore segno della vergine i rapporti si ricuciano se ci si tiene davvero sono assolutamente d'accordo chi tiene davvero a un rapporto chi davvero tiene a una persona non lo perde perché ricordatevi sempre questo è il mio mantra chi ti ama non se ne va né ora e né mai nemmeno se glielo chiedi in ginocchio ricordatevelo chi ti ama resta chi ti ama rimane sempre non ve lo dimenticate mai bilancia sta per cambiare qualcosa e sarà davvero molto interessante cari amici della bilancia ci sono novità in vista per tanti di voi quindi davvero credo che valga la pena di vivere i prossimi giorni al massimo delle vostre capacità perché davvero ci sarà da divertirsi e poi per la gioia della nostra amica it's the spampazzo scorpione la persona a cui tieni si farà ancora sentire quindi attenzione che qua scatta il momento di terrore e occhio che qua scatta il momento di terrore la persona a cui tieni cara it's the spampazzo tu e tutti gli amici del segno e lo scorpione tornerà insomma il periodo di novità in vista ritorni gente che va gente che viene insomma esatto giustamente it's the spampazzo sta ridendo come si sta arrotolando per terra dalle risate r o t f l rodling on the floor logging sagittario non è come sembra è decisamente meglio cari amici del sagittario non fermatevi mai alle apparenze ma non solo amici del sagittario sì che casino eh non hai visto ancora niente cara amica non hai ancora visto niente eh dicevo ehm nella vita in generale ok le apparenze tutto quello che vuoi eh ma certe volte ci blocchiamo male su situazioni che vediamo soltanto noi ci facciamo prendere d'ansia per cose che ma neanche esistono cioè o quantomeno esistono solo nella nostra mente non facciamo questo errore semplicemente perché buttiamo nel cesso la nostra salute e non mi pare proprio il caso segno del capricorno perché ti forzi nel non volere amare quella persona e questo io lo direi a un po di persone del capricorno di mia conoscenza una in particolare non lo so certe volte l'essere umano è strano sembra essere nemico della contentezza come si dice dalle mie parti no non si sa perché ma siamo nemici della contentezza abbiamo l'oro tra le mani lo buttiamo e poi pensiamo di essere tristi ma perché cioè cacchio pensaci prima quindi cari amici del capricorno è tempo di serie riflessioni e di introspezione che potrebbe fare decisamente al caso vostro segno dell'acquario il momento non è dei migliori ma passerà molto presto anche voi cari amici dell'acquario effettivamente c'è tanto da da fare c'è tanto da ragionare c'è tanto su cui davvero poter lavorare è un momento non facile ma ne uscirete vincitori come sempre per finire il segno dei pesci guardati intorno e rifletti bene prima di fare scelte errate cari amici del segno dei pesci mi raccomando non siate irruenti pesate bene le vostre parole e soprattutto come sempre fate voi non buttatevi a capofitto nelle situazioni ma soprattutto insomma ricordatevi sempre che le cose sono ben diverse spesse volte da da come appaiono e quindi comunque pensate bene prima di prima di pensare insomma che qualcosa sia strana che qualcosa sia diversa rispetto a come la immaginate insomma guardate che non sempre le cose sono per come le vediamo intanto mezzanotte 24 minuti buonanotte a tutti voi che siete in ascolto di questa diretta ricordatevi che prossimamente quando appunto andrò a fare le prossime dirette non saremo solamente in diretta su instagram ma saremo anche in diretta radiofonica su radio stereo sound 102 che saluto caramente dicevo 4 novembre 2022 diamo un po uno sguardo un attimino all'almanacco del giorno vediamo un po che cosa ci riserva questa giornata 4 novembre 2022 è il 308esimo giorno dell'anno siamo nella 44esima settimana del 2022 la chiesa ricorda san carlo borromeo e san felice quindi auguri a tutti felice e auguri a tutti i carlo il sole sorge alle ore 6 e 45 tramonta alle ore 17 e 03 le giornate iniziano ad accorciarsi in una maniera terribile la luna è nella forma gibbosa crescente quindi la luna sta crescendo giorno dell'unità nazionale festa delle forze armate esattamente quindi non ho detto una boiata il mio così la mia dignità è salva almeno ciò che ne è rimasto ciò che ne è rimasto diciamo è salvo quantomeno quel poco che ne è rimasto regia basta abbiamo capito c'è bisogno basta ok risata ok vediamo un pochettino invece diamo un attimo uno sguardo a quello che è accaduto nella storia il 4 novembre 1737 con l'opera achille insciro di domenico sarò sul libretto di metastacia a napoli viene inaugurato il teatro san carlo progettato da giovanni antonio medrano e appunto ecco perché il teatro si chiamò san carlo proprio perché venne inaugurato il famosissimo san carlo di napoli dove sono stati fatti dei concerti bellissimi l'altro giorno parlavo con il mio maestro d'accademia che saluto ciao davide che saluto e mi raccontava di un meraviglioso concerto visto al san carlo di napoli è un concerto di claudio baglioni quindi comunque oggi ricordiamo così l'avvio di quel di quel meraviglioso teatro l'apertura di quel meraviglioso teatro e voglio tra l'altro in particolare salutare i nostri amici che proprio sono in ascolto da quel di napoli ecco apro parentesi per ora stanno accorciando le giornate e io ho bisogno di giornate che durino 48 ore guarda non sai quanto ti posso capire le 24 ore di una giornata tendono obiettivamente a non bastarmi per niente quindi si ti capisco molto bene 1776 il chimico e fisico alessandro volta sperimenta per la prima volta l'infiammabilità di un'aria la cui fu riuscita dai fondali della palude di isolino parte gora nei presti di angera sul lago maggiore aveva osservato per la prima volta stiamo parlando della scoperta del metano oggi fu ufficialmente scoperto il metano e capite bene che in un momento come quello che stiamo vivendo con la crisi del gas la crisi con la russia e tutto quanto insomma è una scoperta che sicuramente ha cambiato la nostra vita però come vedete in questo momento è quanto mai attuale quanto mai quanto mai di moda 1852 camillo benzo di cavur diventa presidente del consiglio dei ministri del regno di sardegna succedendo a massimo d'azzeio 1860 il presidente della corte suprema di giustizia siciliana pasquale calvi grande personaggio qui a palermo soprattutto in sicilia è particolarmente riconosciuto cioè ci sono anche diverse vie via pasquale calvi rende noti i risultati del plebiscito del 21 ottobre per l'annessione della regione al regno d'italia i dati indicarono 40 432 mila voti validi bla 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 i risultati insomma furono favorevoli con il 99,85 per cento quindi un plebiscito assoluto 1862 sempre in tema di cose allegre no sempre in tema di cose di purtroppo devo dire di moda a indianapolis scusate a indianapolis viene brevettata la prima mitragliatrice che esplode 350 colpi al minuto opera del medico americano richard gatling quindi vedete proprio diciamo non è che è proprio un bel anniversario da ricordare perché la mitragliatrice non è che proprio venga utilizzata per andare a fare un picnic però diciamo comunque tant'è quindi dobbiamo dobbiamo ricordarlo 1918 una data importante in tutta italia si festeggia la fine della prima guerra mondiale in seguito all'armistizio firmato con l'australia il bollettino ufficiale viene diramato da armando diaz e appunto per questo viene decisa la celebrazione la celebrazione della vittoria e delle forze armate quindi cari amici ecco spiegato il motivo di cui vi raccontavo poco anzi per il quale appunto oggi è la giornata delle forze armate si visitano le caserme perché perché ricordiamo proprio la fine della della prima guerra mondiale e un'altra data molto importante nella giornata di oggi la bara di un caduto in guerra di cui è stata impossibile l'identificazione viene portata a spalla da 18 con militoni stiamo parlando chi non è mai stato a roma l'avrà visto sicuramente insomma ne avrà sentito parlare stiamo parlando del cosiddetto milite ignoto che onora tutti i caduti italiani senza un nome e oggi davvero devo dire una giornata pregna di eventi importantissimi che hanno cambiato il corso della storia 1922 nella valle del re in egitto l'archeologo britannico howard carter scopre il primo gradino dell'ingresso alla tomba di tutankhamen quindi vedete sono successe un sacco di cose nella giornata di oggi e parliamo un po anche del nostro paese 1961 alle ore 21 e 15 nasce il secondo canale televisivo della rai vi ricordo che le trasmissioni rai iniziarono il 3 gennaio del 54 fino a quel momento c'era soltanto una rete il 4 novembre del 61 arriva la seconda rete televisiva per la terza rete bisognerà attendere vado a memoria se mi sbaglio chiedo scusa se non erro il 1979 purtroppo eventi anche in fausti nella giornata del 4 novembre 1966 il fiume arno rompe gli argini e straripando provoca l'alluvione della città di firenze questa cosa ce la ricorda insomma ce l'hanno ricordato anche diverse diverse canzoni anche di tantissimi artisti nazionali che appunto ricordano quell'evento che tra l'altro fece tanti danni e purtroppo anche tante vittime 1977 Pietro Corsini viene nominato nuovo comandante dell'arma dei carabinieri 1980 Ronald Reagan vince le elezioni e poi insomma andando a tempi più più recenti ricordiamo nel 1999 uno tra gli scioperi dei benzinai più terribili e disastrosi che la storia d'italia ricordi e me lo ricordo molto bene avevo 12 anni 16 giorni di sciopero una cosa ragazzi me la ricordo terribile scene di panico chi è più giovane non se lo può ricordare ma credetemi scene di panico perché quando chiudono i benzinai so cazzi so cazzi e come insomma in quel caso scioperavano contro il decreto Bersani per quanto concerne appunto le ultime le ultime cose insomma e questo lo dedichiamo alle fan di Laura Pausini 2007 la cantante Laura Pausini ritira a Monte Carlo il World Music Award nella categoria Best Selling Italian Artist già vinto nel 95 e nel 2003 diamo uno sguardo anche ai compleanni di oggi ai compleanni illustri di oggi ricordiamo Sandro Ciotti nato 94 anni fa nel 1928 giornalista telecronista e commentatore sportivo che ovviamente non c'è più Vittorio Descalzi nato 73 anni fa voce dei New Trolls Vittorio Descalzi che lo ricordiamo ci ha lasciato veramente pochi mesi fa il 24 luglio oggi avrebbe compiuto 73 anni compie 67 anni Mauro Coruzzi che tutti noi conosciamo più amichevolmente come Platinet 1961 Maurizio Casagrande quindi auguri Valeria Solarino attrice nelle 1979 cari amici io vi ringrazio per essere stati insomma in mia compagnia abbiamo passato devo dire un bel quasi un'oretta insomma tre quarti d'ora abbondanti sono molto felice era solo un test non avevo avvisato nessuno lo so perfettamente però la cosa devo dire mi mi ha particolarmente fatto piacere spero insomma possa in qualche maniera aver fatto piacere anche voi allora quando è mezzanotte 35 minuti io vi auguro la buonanotte fate sogni felici riposatevi voi che potete riposate soprattutto la mente e ricordatevi che domani è un altro giorno e dal vostro job a tutti voi come sempre un caldo saluto buonanotte a tutti e grazie ciao buonanotte a tutti